Regione Campania, città di Aversa, parco urbano Salvino Arturo Pozzi, i toloni sono spariti, tutto è pronto per l'apertura. Gli ultimi dettagli, gli operatori stanno effettuando. Gli ultimi dettagli per riaprire il parco. La cittadinanza sta aspettando con curiosità per vedere che cosa è cambiato all'interno. Stanno raccogliendo i teloni, così che tutto sia pronto. L'inaugurazione nelle prossime ore o nei prossimi giorni, prima del volo. Affinché non ci sia nessun nuovo primo cittadino a tagliare il nastro per assumersi il merito di un'opera che non è sua.